In una mongolfera si trovano un francese, un inglese, un napoletano e un marocchino che stanno facendo una gita di piacere. Quando è bello e buono questa mongolfera inizia a perdere quota, tutti quanti ha paura, si dice, madonna mia, qua stiamo perdendo quota, il francese, ullala, ullala, mo che ma fa, mo che ma fa? L'inglese è zitto e il marocchino è tranquillo nell'angolino. Tutti spaventati fanno, ragazzi, ma come dobbiamo fare? Il francese prende di petto la situazione e fa, uaiù, non vi preoccupate, ci penso io. Per l'onore della Francia, io mi voto i panso. Questo è praticamente schiatta per terra proprio per far riprendere questa mongolfera. La mongolfera per qualche attimo riprende quota, ma purtroppo il peggio inizia a riscendere drasticamente. Allora tutti quanti si guardano, madonna, tu quanta mi sa paura. Allora quando l'inglese, ragazzi, non vi preoccupate, no problem, give hands to me. Per l'onore dell'Inghilterra, io mi voto la capa and there. Questo si sbatte con la testa a terra, uno schiacciato tutto quanto. Allora intanto il napoletano e il marocchino si guardano e dicono, madonna, siamo quasi salvi. E no, è proprio lì che la mongolfera lentamente inizia a ricalare. Si levano i vestiti, si levano le scarpe. Quando il napoletano inizia a fare le preghiere, madonna, guarda il marocchino, non ti preoccupare, se ci salviamo ti mette a vendere i cd a pezzi caribaldi, stai tranquillo. Niente, la mongolfera continuava a perdere quota. Napoletano respira, tocca il marocchino, non ti preoccupare, adesso ci pensi. Per l'onore di San Bappi, ottimo primo marocchi.